Questa è la fabbrica della Formula 1? Si che è attaccato al circuito Vi un'altra postura Guardiamo se in stracolo a in museo Grazie. la faccio entrare, facciamo così, e poi ritrovare perfetto, tengo premuto, perfetto, la porto si, perché non c'è una gran visuale, in un ferrari eccoci qua, si tira la chiara